Andiamo a premiare Biciscuola 2023 in occasione della quinta tappa del Giro E. Abbiamo il preciere di premiare la classe vincitrice ma che dovrebbero essere due classi, vero Michael? Due sono. Quindi questa è la prima e poi avremo anche la seconda. Noi premiamo più classi possibili. Nel progetto Biciscuola che è giunto alla sua 22esima edizione, ha coinvolto anche quest'anno oltre 2.000 classi con più di 50.000 alunni partecipanti. Partner dell'iniziativa sono Enel, Lago, Novi, San Assicurazioni.